Nell'indagine per omicidio colposo aperta dalla Procura di Vicenza e poi a dicembre archiviata c'erano due indagati, i titolari delle due aziende per le quali Andrea Soligo stava prestando servizio. Secondo gli avvocati Fabio Capraro e Marco Bonazzi, le conclusioni dello Spisal, un rapporto di 55 pagine, non sono state prese adeguatamente in considerazione. Come mancherebbero all'appello documenti importanti come il piano di sicurezza coordinato che stima i rischi quando due imprese lavorano in concomitanza. Non sono stati trovati, per cui vuol dire che non sono stati esaminati da parte del Pubblico Ministero. Esattamente, quindi noi confidiamo su questo, più dopo confidiamo una rivisitazione di determinate circostanze che abbiamo segnalato. Il fatto che la scala usata da Andrea non fosse a norma perché poco stabile, questa l'immagine prodotta dai legali di come avrebbe dovuto essere, secondo la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la scala. Le prime dichiarazioni del titolare dell'azienda che era con lui per il lavoro poi non sono state verbalizzate, altro punto contestato dai legali, il terzo gli appoggi alla bottola. Il PM ha inoltre sostenuto, si legge nella richiesta di archiviazione, che la caduta di Andrea possa essere di pesa anche dall'eccesso di sicurezza nell'utilizzo della scala. Ha fatto ricorsi per imparare a salire le scale, ha fatto ricorsi di sicurezza che non hanno nulla a che vedere con il fatto di sempre salire o scendere scale che non sono adatte in una determinata situazione. Quindi è assolutamente incomprensibile questa valutazione che fa il Pubblico Ministero.